Ok, siccome l'abbiamo visto a lezione, una cosa che ci può essere utile quando facciamo un change nei concetti di musica moderna, lo vediamo spesso, perché da questa cosa lo trattiamo come secondo grado, ovviamente poi passiamo alla scala minor armonica. In questo caso noi, se io rimango in questo settore, ad esempio sto usando il modello di una friggia, per cui tutti i discorsi legati alle decetture li abbiamo penso passamente. E' un po' caso di... Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo caso, noi la cosa che evidenziamo nei passaggi, vediamo magari, metto una cosa levemente meno satura, apro il gate ancora di più magari, in questo caso. La spostiamo qua. Senti come vado ovviamente a difingere il momento. Da questo momento... Vedete che, ad esempio, le cose che sono banalmente sempre utilizzate... Sono ovviamente queste imparzialità di arpeggi, no? Per cui andiamo sempre a spostare queste parti degli arpeggi, ad esempio di una scala diminuita, che non è nient'altro che un arpeggio del settimo grado della scala, ovviamente meno armonica. E in questo caso io mi chiedo scrittore per una...